Dopo il blitz di mercoledì cominciano gli interrogatori in questura dei parenti e dei pazienti ospiti all'opera San Camillo di Predappio. Gli investigatori della mobile, guidati da Mario Paternoster, cercheranno di capire quanto i familiari fossero informati dei presunti maltrattamenti verso gli anziani disabili, filmati in alcuni video mentre sono legati a letti, poltrone e termosifoni per ore. Il nodo principale riguarda il consenso alla contenzione dei 40 pazienti, si indaga per capire se fosse stato concesso da tutte le famiglie e se si sia abusato dell'utilizzo, visto che le costrizioni fisiche andrebbero utilizzate solo in casi di estrema urgenza. Il sospetto invece è che fosse una pratica abituale per sopperire alla carenza di organico dell'istituto. La psicologa che ha dato il via all'indagine, filmando le violenze e consegnando i file alla polizia, è intervenuta al programma di RAI1 Storie Italiane. La donna ha lavorato nella struttura sanitaria da 2013 al 2016, più volte avrebbe segnalato gli episodi alla dirigenza e al personale, proteste rimaste inascoltate che hanno portato a un progressivo isolamento della professionista. Mi ha colpito la consapevolezza, come ho detto prima, di quello che stavano subendo, quindi erano assolutamente centrati quando mostravano il loro dolore e la loro disperazione. Ci sono state delle immagini forti che comunque ho filmato appunto quando una persona per non, ecco questo fa vedere la dignità, per non urinarsi addosso è costretto a prendere su una mole di poltrona che comunque immagino che abbia il suo peso, trascinarsela fino al bagno. Quindi questo fa vedere che il loro margine di dignità era conservato assolutamente e nonostante questo nulla si faceva, anzi spesso erano derisi perché poi si erano urinati addosso dagli operatori.